Ben trovati per la seconda parte di Doppio Binario, continuiamo a parlare dell'attività di vigilanza all'interno delle aziende e di come è cambiata questa attività nel corso di questa emergenza sanitaria. Lo facciamo con i nostri ospiti e vi presento prima appunto l'avvocato Sara Citterio, General Counsel di Tussardi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, ben ritrovato. Ecco, grazie per essere qui con noi. Le chiedo appunto come è cambiata in questo anno, siamo ormai giunti all'anno da quando è iniziata questa emergenza, come è cambiata l'attività del vostro organismo di vigilanza? Prego. L'attività dell'organismo di vigilanza in realtà nel merito non è cambiata tantissimo, quello che si è intensificata è stata la parte più relativa ai controlli, nel senso che il nostro modello organizzativo in realtà era un modello organizzativo piuttosto recente che quindi aveva preso in considerazione tutta una serie di sviluppi, tra cui ovviamente anche le normative più recenti. Quindi dal punto di vista della struttura del nostro modello non abbiamo ritenuto opportuno e necessario soprattutto dover intervenire. È logico che il manifestarsi della pandemia ha creato tutta una serie di occasioni in più rispetto a quelle precedentemente mappate ovviamente, che riguardano una serie di reati. I reati diciamo più sensibili a livello di Covid-19 possono essere sia ovviamente i reati legati proprio per anche la situazione emergenziale, la normativa emergenziale che si è verificata, magari maggiore esposizione a quelli che possono essere i reati nei confronti della pubblica amministrazione, perché ci sono stati molti più contatti dell'azienda, la nostra ma penso anche tante altre, per l'ottenimento dei finanziamenti previsti dalla normativa emergenziale. Quindi questo era un po' un'area che almeno per quello che ci riguarda era meno sotto il controllo, proprio perché le occasioni anche di contatto con la pubblica amministrazione non erano particolari in epoca pre-Covid, ovviamente sono aumentate. Quindi questo ha comportato un maggior contatto, una maggiore esposizione ed anche quindi una maggiore necessità di verifica che i protocolli in azienda venissero rispettati. Ovviamente ci sono poi state anche altre sensibilità, molte di queste legate a quello che è stato il periodo di telelavoro o smart working all'interno dell'azienda che ha aperto ovviamente il fianco all'utilizzo maggiore di reti da casa da parte dei dipendenti non protette e quindi una maggiore sensibilità anche rispetto a reati informatici di vario tipo. È logico che quando uno lavora alla propria postazione all'interno dell'azienda ci sono tutta una serie di sistemi di protezione che magari a casa possono essere evasi in maniera molto più facile. Quindi questa è un'altra area dove si è intensificata l'attenzione rispetto alla possibilità di commettere reati. Un'altra possibilità che abbiamo riscontrato e che purtroppo ho visto anche recentemente e anche proprio oggi leggendo alcuni giornali è quella dell'approvvigionamento di alcuni DPI che ovviamente purtroppo a ridosso della nascita dell'emergenza erano introvabili, ora grazie al cielo sono un po' più disponibili che però aveva creato tutta una serie di problematiche di approvvigionamento. Parlo ad esempio delle famose mascherine, sappiamo tutto insomma quello che era successo ma giusto per indicarne alcuni c'era anche stata un po' di difficoltà anche di approvvigionamento dei liquidi di disinfezione delle mani per esempio. Ecco qui tutta la catena anche di approvvigionamento di questo tipo di prodotti ovviamente creava delle sensibilità o avrebbe potuto diciamo creare delle sensibilità e degli episodi di rischio magari potenziale però comunque da valutare anche di corruzione tra privati piuttosto che di acquisto di presidi non conformi rispetto alla normativa. Purtroppo le cronache ci hanno restituito alcuni casi nei quali questo rischio si è verificato. Ecco quindi anche da questo punto di vista diciamo le attività di controllo si sono andate a puntualizzare, ad intensificare. Questi diciamo per quello che riguarda quelli che potrebbero essere i reati indiretti perché poi sappiamo che i rischi diretti che abbiamo affrontato tutti come datori di lavoro sono ovviamente quelli legati alla salute e alla sicurezza e quindi il controllo dell'applicazione all'interno dell'azienda in tutte le sue unità produttive di quella che era la normativa relativa all'organizzazione del lavoro a seguito della riapertura quindi dopo la fase 2. Noi ovviamente in fase 1 avevamo e questo è un altro controllo tra l'altro che abbiamo fatto, avevamo dei codici a teco che non ci permettevano l'apertura quindi abbiamo comunque dovuto constatare e applicare la chiusura e dopodiché quando in fase 2 siamo riusciti a riaprire poco per volta tutte le unità produttive anche questo ha comportato ovviamente un controllo dell'applicazione dei protocolli, l'ultima versione quella del 24 di aprile dell'anno scorso e anche questo ovviamente ha coinvolto anche gli organismi di vigilanza interni dell'azienda perché giustamente c'è stato anche una verifica e un'interfaccia con quelli che sono i comitati interni che si occupano direttamente di questa attività per valutare che tutte le procedure messe in atto fossero coerenti rispetto alla normativa e fossero ovviamente implementate correttamente anche nel corso del tempo. Sì poi tra l'altro tralasciando il fatto che la normativa non sempre è stata chiara, gli interventi normativi si sono susseguiti spesso in modo diciamo caotico e questa è effettivamente una esternalità da tenere presente. In questo senso le chiedo in che modo, visto che non è possibile prevedere quali saranno anche i nuovi rischi, in che modo è possibile avere e costruire un modello che sia il più possibile flessibile e impermeabile a questo tipo di rischi? Purtroppo ovviamente l'impermeabilità è difficile da ottenere anche perché quello che noi cerchiamo di fare è di minimizzare i rischi. Sfortunatamente soprattutto appunto quando ci sono modalità di lavoro da remoto per cui c'è anche meno possibilità di controllo da parte del datore di lavoro, è logico che questo può occasionare delle attività fuori da quelli che sono i normali perimetri che vengono generalmente osservati all'interno dell'azienda. Quindi l'unica cosa che si può fare in questi casi è intensificare le attività di vigilanza focalizzandosi proprio su quei settori che più di altri e quindi va fatta ovviamente una valutazione ex ante assolutamente scevra da qualsiasi tipo di pregiudizio, quindi si va ad analizzare quelle che potrebbero effettivamente essere le aree sensibili indipendentemente dal fatto che si siano o meno verificati in passato determinate violazioni di quei protocolli e poi si vanno ad applicare controlli che possono essere più o meno stringenti a secondo del grado di rischio che si viene ad analizzare. Purtroppo eliminare totalmente il rischio è impossibile, ma minimizzarlo e a questo punto anche il fatto appunto di una presenza costante dei controlli che comunque fa sentire la presenza di un organismo che vigila è già di per sé o comunque può costituire un deterrente per evitare che alcuni rischi poi possano trasformarsi in vere e proprie occasioni di reato. Certo, quindi in questo senso l'attività dell'organismo di vigilanza è sicuramente fondamentale ha un ruolo decisamente chiave. Avvocato, io la ringrazio per essere stata con noi. Grazie a voi per l'invito. Grazie a lei l'Avvocato Sara Citterio, General Counsel di Trussardi e cedo la parola all'Avvocato Chiara Padovani, fondatrice dello studio legale Padovani. Buongiorno, grazie, grazie a voi. Grazie a lei. Ecco, a lei chiedo appunto qual è l'importanza che riveste l'organismo di vigilanza all'interno di un'azienda? L'importanza è centrale come si evince anche dalla razza dell'intero impianto normativo di quel decreto legislativo 231 del 2001 perché sappiamo dal combinato disposto dell'articolo 6,1 lettere B e lettera D che è proprio l'organismo di vigilanza a operare anche in chiave esimente rispetto a una potenziale responsabilità dell'ente laddove la funzione di vigilanza e di controllo sull'efficace attuazione del modello sia stata attribuita ad un organismo indipendente, quindi ad un organismo di vigilanza indipendente ed autonomo e se l'organismo di vigilanza abbia nel corso del tempo espletato questa attività in maniera densa, concretamente efficace e quindi che non possa essere rimproverata in qualche modo in chiave omissiva rispetto a questa vigilanza, all'organismo di vigilanza e quindi all'ente. Non solo, ma questa importanza poi questa centralità del ruolo dell'organismo di vigilanza la desumiamo anche da quelli che sono i poteri concreti che sono attribuiti non soltanto dalla razza normativa ma anche potremmo dire dalla soft law e quindi dalle varie linee guida e dalle migliori pratiche nazionali, poteri che sono quelli propositivi, consultivi, istruttori ed impulso che pur essendo lontani sia qualitativamente che quantitativamente rispetto a quelli impeditivi, disciplinari o di diretto potere modificativo del modello, assumono però, come dire, riassumono il cuore del compito di vigilanza dell'organismo stesso. A questa centralità poi oggi si affianca una particolare attenzione che l'organismo deve prestare verso non soltanto la trattazione delle segnalazioni anche in chiave wisdom blowing, di cui in alcune realtà aziendali l'organismo è destinatario, come canale appunto destinatario delle segnalazioni anche in chiave wisdom blowing, ma anche della formazione, quindi della formazione della comunità lavorativa sulle tematiche 2-3-1 e soprattutto ovviamente sulle concrete realtà dei singoli modelli e quindi dei singoli protocolli di prevenzione in chiave penal preventiva. Certo, ecco ma vista appunto l'importanza che rivesse l'organismo di vigilanza, ci sono a suo avviso dei passaggi cruciali, diciamo così dei passaggi chiave che l'azienda deve seguire per dotarsi di organismi insomma adeguati. Se vogliamo riassumerli molto scientificamente, il primo step è quello di scegliere motivatamente se l'azienda vuole dotarsi di un organismo monocratico collegiale e guardate bene, questo primo passaggio è fondamentale perché deve essere un passaggio che dovrà rispondere in termini coerenti alla realtà aziendale e al grado qualitativo e quantitativo di esposizione di quell'azienda a determinati rischi di reato. Quindi la prima scelta motivata che dovrà fare il Consiglio di amministrazione, nei casi in cui sia il Consiglio di amministrazione ovviamente a nominare l'organismo di vigilanza, sarà quella di scegliere tra un organismo monocratico e un collegiale. Il secondo step sarà quello di valutare a quel punto qualitativamente che tipo di professionalità l'organismo ha bisogno rispetto a quella realtà aziendale, ovviamente la scelta sarà più complessa nel caso di organismo monocratico perché quello che io consiglio è di avere sempre a parte i casi in cui il collegio sindacale può svolgere questo ruolo e come è previsto dal decreto legislativo 231, ma in ogni caso è in quell'ipotesi fondamentale la presenza di un professionista con una preparazione penalistica molto forte che ovviamente abbia già avuto delle precedenti esperienze in questo ambito, perché ovviamente l'organismo di vigilanza monocratico non beneficia di quella possibilità di confronto dialogico con altri membri. Rispetto invece a un organismo di vigilanza collegiale, oltre a una figura di penalista, saranno necessarie altre professionalità che ripeto non si possono standardizzare nella loro scelta preventivamente, dovranno essere calibrate sulle specifiche esigenze aziendali. Per fare un esempio concreto, se un'azienda è particolarmente esposta a reati collegati, a reati ambientali o di sicurezza, di igiene e sicurezza sul lavoro, è evidente che anche la presenza di un professionista, ad esempio di un ingegnere ambientale o comunque di un professionista che si occupi dal lato tecnico di queste materie è sempre preferibile. Bene, insomma dei consigli molto molto utili per le imprese, per appunto mettere a punto un organismo adeguato. Avvocato, io la ringrazio molto per essere stata con noi. Grazie a lei, grazie a voi alla redazione. Grazie anche ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.